Ciao ragazzi, oggi ci rivediamo in un nuovo video. Oggi, siccome su Equilibri Racing 2 è uscito un nuovo veicolo, ve lo voglio fare vedere. Qua, guardate. Il trattore. È quasi il più veloce, ma più delle Vespa no. Guardate, ve lo faccio fare vedere. Se è veloce per voi. No dai, mi supera. Mezzo, ti sposto con la mia pala. Ancora non tanti accessori e sono morto, perché questo veicolo è uscito oggi e me lo sono preso. Per oggi il video è finito. Ci rivediamo in un nuovo video. Ciao!